Salvini su tutti. Campione imbattuto di schiacciamento merde. Uno che riesce a dire che a favore del ponte è contro il ponte. Dice che a favore del doppio mandato è contro il doppio mandato. Poi ci sono quelli bravi da Champions League tipo San Giuliano, Lolo Brigida. Li trovi sulle prime pagine. Ma la ministra del lavoro non sapevamo chi fosse. Ed è strano perché l'Italia è una repubblica, anzi dovrebbe essere una repubblica proprio fondata sul lavoro. Non è fondata sul ponte, sullo stretto, sulla mostra di Tolkien, sulla battuta di Fassona. No, 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 proprio sul lavoro. E la ministra del lavoro è praticamente sconosciuta. Ma non ti dice niente, Floris. Forse racconta un po' quali siano le priorità del governo. Forse racconta a tutti noi che il governo ci distrae sulle stronzate, ma delle cose serie se ne occupa meno. Anche perché c'è un altro ministro che prova pure lui di tanto in tanto ad apparire. Si chiama Adolfo Urso ed è il ministro del Made in Italy. Eccolo qui, lo vediamo dopo una furibonda lite col parrucchiere. È uscito malissimo anche il parrucchiere. Il ministro Urso non si faceva sentire da un po'. E allora cosa ha pensato? Ha pensato cosa posso dire per farmi notare. E ha sparato questa. Un'auto chiamata Milano non si può produrre in Polonia. Perché nel continuo scontro tra il ministro Stellantis, che poi è l'erede dei Fiat, lui dice che per le macchine deve valere quello che vale per il parmigiano reggiano. Se lo fai all'estero non ti puoi chiamare così. Evidentemente Urso pensa che la Ford Capri la facciano a Capri, la Ferrari California a Los Angeles, la Kia Sorento a Sorento con una R. E la Topolino a Topolinia. Ma la cosa incredibile è che Alfa Romeo gli ha dato retta. Insomma ha fatto una cosa che sembra più una perculata ministeriale. Esatto. Alfa Romeo Milano cambia nome e diventa Junior. Eh no! Adesso diciamo noi no! Andiamo andati a vedere. Perché in West Virginia c'è un posto che si chiama Junior. E come la mettiamo? E non mi pare che la macchina la facciano lì, popolo di Junior, insorgiamo! Ora io non vorrei essere pignolo, ma se ragioniamo così allora parliamo del Tuiga. Il locale della Sant'Anché è Briatore. Tuiga in sua ili vuol dire giraffa e in Bersiglia giraffe non ne vedo io. Per essere onesti, per parlare proprio di quello che c'è lì, dovevano chiamarlo il cinghiale, il miliardario russo. Ma i problemi di Sant'Anché sono altri perché a un certo punto ha fatto questa dichiarazione. Ho deciso insieme di farlo sul cinema perché ci sembra un turismo, uno dei turismi che è assolutamente derimente per la crescita del turismo anche in questa isola. Se si conosce la Sicilia io credo che nessuno possa dimenticare Il Gattopardo di Lucchini o altri film bellissimi. Eh ma certo, ma che Sicilia? Come non ricordare? Il Gattopardo di Lucchini! Il Visconte Lucchini! Vabbè ma è un piccolo lapsus, Daniela non voleva rimanere indietro nella guerra delle gaffe con gli altri ministri, no? Sì che poi per carità non c'è nulla di male a sbagliare il nome di un regista, anche perché quando l'ha detto la Sattacchè si trovava... Agli stati generali del cinema italiano! Un po' come raccontare una barzelletta sugli ebrei in una sinagoga! Cosa che fece un assessore genovese! Ma è l'apsus di Sant'Anché crediamo sia dovuto anche un momento di scarsa lucidità! Perché dopo, dopo Lucchini ha detto questa cosa qua! È ancora più bello! L'assessore Amato sta già lavorando in questa, in questa, su questa strada, quindi dobbiamo fare questo, dobbiamo involarli, farli conoscere, farli venire in Sicilia e togliere, diciamo, la burocrazia... Capito Floris? Non ho capito, scusa! Non solo dobbiamo involarli, ma dobbiamo anche togliere la burocrazia, ma comunque soprattutto involarli! Perché si parla di brand reputation e riesce a pronunciare bene, ma con Italia pronunciation non ce la fa, capito? A meno che la geniale Daniela non abbia fatto anche lei la gaffe per farci parlare di quello e non di un'altra espressione italiana. il falso in bilancio. Si chiusa altre indagini italiane a Sant'Anche, falso in bilancio verso la richiesta di processo. Non so se è falso in bilancio o falso! Però tu mi vuoi dire che la bilancio era inventation, lo vedremo, lo decideranno al tribunale. Nel frattempo Tajani ha subito specificato che non chiedo passi indietro a Sant'Anche, noi siamo garantisti. Insomma, bisogna mettere che Tajani in questo panorama si dimostra uno dei pochi politici equilibrati. Ci avete creduto! Ma dove? Ah, presentazione del simbolo di Forza Italia, alleato con Totti, simbolo delle europee. Eccolo qua. Allora, guardate bene le scritte, Partito Popolare Europeo, Forza Italia, noi moderati di Totti, ma quella più grande è Berlusconi presidente. Ma con Berlusconi? Ma non era... è trapassato, insomma, quindi segnatevi la data, quello dell'8 e 9 giugno... Sarà il weekend con il morto. Lo porteranno in giro, così ci stanno dicendo che prende più voti Berlusconi da morto che Totti e Tajani da vivi. Ma tu hai detto sovranità? Perché se hai detto sovranità io non posso dire che alimentare. Tu mi dici sovranità e io ti dico alimentare. E anche questa settimana abbiamo un grande contributo da lui, il nostro ministro Lolo Brigida. Ma oltretutto questa fotografia la pubblica lui spesso. Sì, sì, vuol dire che... Noi siamo qui a chiederci qual è stato il suo amico stronzo che gli ha detto... Guarda, pubblica questa Lolo, perché sei venuto bene. Guarda che bisogna essere proprio degli stronzi. Sì, dai, sei fermi. Ma come? Lolo Brigida ha una grandissima passione. Eh, lo sappiamo. No, no, un'altra, un'altra, un'altra. Sì, sì, lui deve difendere le piante, ma non tutte le piante. Lui deve difendere le piante che nessuno sta attaccando. Sì, perché c'è una pianta che fa parte della tradizione italiana, a quella che il ministero della sovranità di sto cazzo dovrebbe difendere, no? Una pianta che in Italia dal primo secolo dopo Cristo, da duemila anni, cioè più tradizionali italiani di così, questa pianta è la cannabis. Che pur essendo italiano dai tempi dell'impero romano, è vietata. Poi c'è un'altra pianta che più o meno in Italia dallo stesso periodo, che è l'uva. Che invece non è vietata. E fanno male tutte e due. Tutte e due. Ma la cannabis ti fa andare in galera. L'uva ti fa andare al Vinitali. Perché ricordiamo che se dagli spinelli si passa le droghe mortali, allora diciamo pure che ognuno dei 17.000 morti all'anno per abuso di alcol ha cominciato con un bicchiere di vino. Sono due cazzate uguali, ma non per l'olobrigita, che una volta alla settimana ci tiene a dire una cosa che fa incazzare il mio gastroenterologo. Che il vino fa bene, lui ci tiene a dirlo. Ma visto che non riesce proprio a dire che l'alcol fa bene, ogni settimana fa una supercazzola senza il vino. Diversitissime. Tipo questa. Questa ve l'abbiamo tenuta lunga perché è particolarmente bella. Guardate come si arrampica. Io penso che alcuni elementi vadano lasciati alla scienza e a coloro che, però con tante opinioni differenti, danno dei giudizi sulle diverse bevande alcoliche. Che l'alcol non sia un elemento positivo, è un fatto oggettivo. Che le bevande a base di alcol siano dannose, invece, è molto soggettivo. anche all'interno della comunità scientifica, che per esempio, per buona parte, dà invece un valore all'utilizzo del vino con parsimonia, che è simile a quello che Socrate, per esempio, all'inizio della storia della filosofia umana, delineava come un prodotto che si è vivuto con attenzione, che si fa bene essere all'organismo e anche alla mente, perché la convivialità è uno dei elementi del benessere. Si sa che a Socrate piacevano tanto gli allievi e la medicina. C'è il famoso giuramento di Socrate. Un bicchiere di vino e passa tutto. Però Lolo Brigida, proprio all'inaugurazione di questo convenio sui, che poi è vinita lì, ha fatto gli onori di casa e ha tagliato il nastro. Vediamo, perché è interessante. Ecco. Non è possibile. Allora, non avete notato niente di strano. Allora, guarda, lo facciamo vedere. Guarda come taglia il nastro. Allora, lui c'ha il nastro davanti, no? Allora, lui taglia di qua e poi taglia anche di là. Perché vede che non cade e quindi dice che probabilmente ci vogliono due. Cioè, capite che questo l'abbiamo fatto ministra noi? Allora, mentre in Italia stavamo parlando di film di Lucchini e di Viro che fa bene, sabato l'Iran ha attaccato Israele. Ma tutti hanno cercato di fermare la guerra. Anche un gigante della politica di cui abbiamo già parlato oggi. Tagliani! Ieri ho provato a convincere il ministro degli esseri israeliano, iraniano, a non intraprendere questa azione, ma hanno fatto capire che la decisione era già presa. Capito, lui l'ho anche ammesso. Quindi, bacitate l'Iran, si prepara la guerra con Israele, stanno armando i missili. Squilla il telefono. Pronto? Buonasera, sono Antonio Tagliani, leader di Forza Italia. Scusate se vi disturbo a quest'ora di sabato sera. Volevo chiedere se potevate non sparare i missili. Lei è proprio Tagliani, vero? Sì, sì, Tagliani. Ecco, questo è quello che è successo. Ma per finire vi svegliamo delle scene tratte da un film di Nanni Loi. Perché questa settimana si è svolto in Italia il G7 dei ministri delle infrastrutture. Sono venuti dall'estero tutti i ministri. A fare la padrona di casa c'era Matteo Salvini, cioè un po' l'incarnazione di Alberto Sordi, cioè l'italiano perfetto. La cosa bella è che questo video, come ha notato l'amico non leggerlo, è stato postato da Salvini, ma poi l'ha rimosso. Chissà perché. Allora, il video comincia... Allora, attenzione, è G7 delle infrastrutture e il video comincia così. Vedrete che si, io sono... Perso, è perso. Cosa? A go. Fora di bar. Fora di bar. Ecco, Salvini si esprime così in milanese. Fora di bar. Perché invece il suo inglese... Non è proprio fluentissimo. Come vedremo, gli hanno insegnato. Nice to meet you, thanks a lot e see you soon. Sì, quello lì le sa, le sa. Le sa marce proprio. Il problema di Salvini è che lui deve solo star lì, stringere delle mani, fare la foto. Ma sai come sono i ragazzini, no? Si distraggono di niente. Infatti, quando arriva il ministro inglese, lo coglie di sorpresa. Guardate questa... Perché lui è lì che si sta facendo bellamente i cazzi suoi. E... Piede solo. Guarda, è lì che... Piede solo, fa il ganassa, capito? Fa il ganassa. Top, arriva. Sì, io... Qua diciamo... Foto. Sì, io su. Tec salò. Io su. Tec salò. Gli indica il cesso. Ecco, vai. Va bene. Poi chiede se va bene, perché sai, non era facile. Come sono andato. Questo è britannico, americano-britannico. Perché comunque il compito è complicato. Eh, non è facile. Vedi? Deve dire my friends. My friends. Perché sono in tanti. Eh, ma qua arrivano tutti gli altri. E per indicare quando arriva il giapponese, lui come fa a farlo capire ai suoi? Eh, perché il giapponese è uno. Qua si capisce qual è il giapponese. Guardate cosa fai. Cosa dice ai suoi aiutanti. Questo è chiaro. Questo si capisce. Questo è chiaro. Questo si capisce che è giapponese. C'è proprio la faccia da giapponese. Attenzione perché... Sì, qua si è nice to meet you. Nice to see you soon. Sì, io sono... Eh, la foto. La foto. Si si era dimenticati la foto. Stava per dimenticare. Sì, sì, sì. Stava quasi per dimenticare. Perché lui deve stringere la mano e fare la foto. Non è facile ricordarsi tutto. Eh, gestire tutte queste robe. Poi ne arriva uno che non sappiamo chi è. E guardate cosa fa Salvini. È uno dei tanti ministri. Sì. Nice to meet you. Nice to meet you. See you soon. See you soon. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. Eh, guarda. È lì. Vai. Vai, vai, vai. Indica il cesso. Il fondo a destra. Ma il finale è con il ministro canadese. E qua è il momento di... Così, ci scappa il battutone. Grande ilarità. Vediamo il canadese. Tanto il canadese ha una faccia che... Nice to meet you. Nice to meet you. Chiaramente. Il collega canadese ha comprato un Alfa Romeo. Sì. 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 Ah, e sti cazzi? Che modello? Il sostitore. Non la Milano, credo. Non la Milano. La tonale veloce. L'avranno fatta. Eh, non lo so. I'm gonna get it next week. La settimana prossima. Pubblicità progresso. Perché quando parla in inglese lui non capisce niente. No, no, no. Ha fatto anche la battutona. Pubblicità progresso. Il canadese però ci ha fatto capire a cosa è servito questo G7. A pagargli il viaggio per comprarsi una macchina in Italia. A dopo, Floris. A dopo, ciao. Luca, Luca e Paolo. Torradà, ho già sbentornato. Volto storico. Su questa rete il grande successo è la Torre di Babele. Pensi quanto lavora il protocollo prima di... No, proprio sono cose così avvilenti. Perché? Perché io le conosco queste cose. Le ho viste... Sono stato molti anni fuori. Le ho viste perfino alla Casa Bianca. Vi ricordo una volta, in un ricevimento, eravamo stati ammessi come giornalisti italiani, in un ricevimento alla Casa Bianca, la banda dei Marenzi, elegantissima. E' la prima volta che vedo dei soldati che suonavano il violino. Attaccò Funiculì Funicolà come omaggio. E questo sventurato accennò qualche passo. Qualche passo di una cosa da mettersi sotto il tavolo. Perché siamo noi così, sono gli italiani così. Perché siamo noi così, perché è così difficile prenderci sul serio, anche sulle questioni molto serie.